Siamo con la Barbara De Paoles, che ci ha portato qui direttamente nella cava. Ci sono due eventi nel fine settimana per il gruppo archeologico romano, sezioni Ulpia di Civitavecchia. Ci racconti di cosa di realtà? Sì, abbiamo pensato di far vivere questo luogo in una maniera differente dal solito e quindi abbiamo chiesto la collaborazione del liceo musicale Galilei e dell'Ensemble Encantus, che ci hanno subito risposto favorevolmente. Quindi venerdì offriremo alle autorità che vogliono intervenire, che noi abbiamo invitato e vediamo se avranno piacere di intervenire. E poi alla cittadinanza offriamo questo concerto itinerante. Quindi non ci sarà un punto in cui tutti saranno seduti a vedere il concerto, ma si svolgerà nel tutto il perimetro della necropoli. Quindi è un esperimento sia per noi che per questi ragazzi che così volenterosi sono offerti. E poi la domenica invece faremo le visite normali, un'apertura straordinaria, quindi ci sarà lo scavo didattico per i bambini e la visita con l'archeologa, quindi anche molto interessante dal punto di vista proprio storico e archeologico. E tutto questo è inserito nelle giornate europee dell'archeologia. Quindi noi ci siamo venerdì, sabato c'è l'apertura del museo con i tableaux vivants, che sono personaggi vestiti in abiti etruschi, romani, a secondo del contesto. E poi domenica sera ci sarà la prologo che apre le tarme di Traiano sempre con un concerto. Quindi è una fine settimana veramente intenso. Come possono fare le persone per partecipare? È meglio se si prenotano al sito che è indicato sulla locandina, all'indirizzo mail, scusami, oppure ci chiamano, ci contattano su Facebook, su Instagram, oppure vengono e basta. Già basterà. Maria Camilletti, anche il professore nella gara, come va? Siamo pronti per questi eventi di fine settimana? Beh, è un evento interessante. Intanto qui il gruppo ha fatto un lavoro straordinario, come potete vedere, e come immagino, verrete a vedere. Veramente è un lavoro di ripulitura enorme, importante, in un luogo importante. Cetecchia sta riscoprendo le sue radici da parecchio tempo, è vero, ma ci sono nell'ultimo periodo veramente dei lavori incommiabili come questo. Il liceo musicale Galilei partecipa perché non c'è niente di meglio che associare il discorso dell'archeologia, della storia, della riscoperta delle radici con la musica. E quindi ci sarà comunque un concerto, chiamiamolo così, dei nostri ragazzi, dei ragazzini del musicale, che si esprimeranno attraverso vari strumenti. Avremo chitarre, violoncelli, violini, eccetera. E quindi questo perché è giusto che si dia appunto un impulso importante a un discorso culturale che è sempre a 360 gradi e che fra l'altro capita in un momento bello perché siamo ormai finalmente, non solo noi in zona bianca, ma insomma siamo ormai arrivati all'estate e soprattutto in un luogo veramente da riscoprire.